Premio internazionale Angeli di Luce nell'Arte Sabato 16 giugno, nello splendido scenario del Parco del Cimino Bio Resort a Soriano nel Cimino Viterbo Immersi nella natura, un'atmosfera di arte infinita, dove si potranno ammirare nel percorso sacro degli Angeli di Luce le splendide e sacre sculture degli angeli Premio internazionale Angeli di Luce nell'Arte Sabato 16 giugno, nello splendido scenario del Parco del Cimino Bio Resort a Soriano nel Cimino Viterbo Una produzione Flower Terry Production Grazie a tutti